Ci ritroviamo sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Eventi e Press, parliamo di elezioni amministrative nella nostra rubrica del politicamente corretto, ospitiamo questa sera e la ringraziamo per la disponibilità il sindaco di Sant'Angelo di Brolo, Francesco Paolo Cortolillo, buonasera, grazie sindaco per la sua disponibilità. Buonasera a te Giuseppe e a tutti i nostri telespettatori. Allora sindaco, cinque anni di attività amministrativa, è chiaro che per un sindaco sciente è come se fosse una sorta di referendum su questi cinque anni, sull'operato di questi cinque anni. Che risultati, magari diciamo i principali, non facciamo un elenco, ma i principali risultati che porta alla sua comunità? Sì, certo, fare un elenco sarebbe, non dico impossibile, ma sarebbe lunghissimo. Intanto grazie per la domanda, risultati di cinque anni, come è stato detto prima, io sono un sindaco di lungo corso, avevo governato dieci anni negli anni novanta, alla fine degli anni novanta, fino al duemila e due, e questo mandato nel quale credo che sia evidente e visibile a tutti, sia sotto gli occhi di tutti, perché noi diciamo che i fatti parlano e parlano da soli. Abbiamo dato tutto quello che potevamo per il nostro paese, per la nostra comunità, sono stati cinque anni di grande impegno, di impegno istancabile, nei quali cinque anni i risultati sono stati e sono visibili. Faccio solo un brevissimo recenno, quasi 20 milioni di euro di finanziamenti ottenuti, infrastrutture già realizzate e consegnate, infrastrutture di cui grandi cantieri cominceranno da qui a qualche settimana, alcuni, e altri che ce ne sono in programma. Un lavoro di semina, io dico che ovviamente nei cinque anni non può produrre tutto quello che sono le aspettative di una comunità, che è vero, abbiamo governato interpretando, credo lo diranno gli elettori, al meglio delle nostre possibilità e comunque al meglio del nostro impegno, facendo grandi sacrifici, con una presenza costante, assidua nel comune, fuori dal comune, in mezzo alla gente, dando, assicurando e migliorando alcuni servizi essenziali e poi i lavori pubblici e tutta quanta un'attività di contorno. Abbiamo garantito nuove realizzazioni importantissime, abbiamo da un mese, un mese e mezzo, abbiamo consegnato un'arteria fondamentale per il nostro paese, che era bloccata e che era stata danneggiata dall'alluvione del 2010, parlo della circonvallazione Pantano Alto San Carlo, che noi spero potremo intitolare, qualora noi ovviamente continuassimo, continueremo a governare questo paese, al giudice rivatino. Parlo della circonvallazione, un lavoro pubblico importantissimo, un'arteria importantissima, un'opera straordinaria che è in corso di realizzazione, è il miglioramento dell'ingresso del paese, un finanziamento importante di circa 3 milioni di euro, un'opera che veniva sognata dai sant'angiolesi da circa 50 anni, oggi è una realtà, i lavori sono in corso, sono visibili a tutti. Abbiamo fatto l'ampliamento della via Garibaldi, anche questa è un'opera che era attesa da tantissimi anni, e tante opere pubbliche abbiamo ancora in corso, quindi un lavoro credo straordinario che credo sia certamente sotto gli occhi di tutti. Quello che intendiamo realizzare, noi abbiamo credo dato tanto, però tantissimo ancora deve essere fatto. Il mio programma, che sottopongo al giudizio degli elettori, è un programma molto articolato, è un programma concreto perché parte dai bisogni della mia comunità, che ha delle grandi potenzialità oltretutto, un grande patrimonio storico-artistico, uno straordinario patrimonio naturalistico e paesaggistico, un'offerta enogastronomica importante che negli ultimi tempi soprattutto abbiamo visto è in grado di attirare e di attrarre flussi turistici che direi negli ultimi anni non si erano visti. Ovviamente tutto questo è stato, non dico bloccato, è stato un po' rallentato da questa guerra che da due anni circa noi abbiamo intrapreso, che purtroppo è la guerra del Covid che ancora oggi è in atto, perché non dobbiamo certamente abbassare la guardia, in quanto sappiamo ancora che siamo colpiti, siamo reduci da un'estate che è stata certamente molto affollata, dove la gente è potuta riuscire, i turisti, i nostri concittadini residenti nelle grandi città del nord sono ritornati, è stata un'estate, vorrei dire, molto affollata. C'è anche di difficile gestione, no sindaco? Certamente, di difficile gestione, purtroppo adesso io credo stiamo ancora pagando l'ondata di questa estate, che da due anni non vivevamo, quindi ovviamente c'è stato un ascatenamento, ma d'altronde anche logicamente la gente chiusa, i vari lockdown, è chiaro che tutto questo ha comportato quello che ha comportato, però in questo Sant'Angelo, devo dire, ultimamente abbiamo avuto nell'ultimo mese, nell'ultimo mese e mezzo abbiamo avuto un elevato numero di positivi, però nei 17 mesi, nei 16 mesi precedenti, i miei concittadini hanno rispettato quasi tutti le prescrizioni di legge, hanno rispettato quelle che erano e sono tutt'oggi le regole, il distanziamento sociale, le mascherine e quant'altro. È chiaro, purtroppo, che c'è stato un momento, adesso siamo in forte decrescita, i positivi si sono negativizzati, la maggior parte abbiamo ancora qualche famiglia, ma in maniera del tutto sporadica, speriamo che si stia uscendo anche da questa terza, quarta ondata, adesso non sappiamo quale che sia. Sì, infatti abbiamo perso il conto di queste ondate. Allora, Sindaco, parliamo delle prospettive, qual è l'idea per i prossimi cinque anni, l'idea di conduzione amministrativa che vorrebbe dare a Sant'Angelo di Brollo per i prossimi cinque anni, quali obiettivi principali hai individuato? Io intanto vorrei inserire nel contesto di questa domanda un aspetto che io ritengo fondamentale. Questo nostro progetto che si presenta al vaglio degli elettori il prossimo 10-11 ottobre è un progetto che nasce nel 2016, che risulta vincente nel 2016, è il progetto di Libera Sant'Angelo, e oggi a distanza di cinque anni io riesco a mantenere e a riproporre quasi per intero la stessa squadra che ha amministrato per cinque anni. Sono candidati sei consiglieri comunali uscenti e due su tre assessori uscenti, quindi un progetto in assoluta continuità, con una formula inserita all'interno di quello che è lo stemma, il simbolo della nostra lista, la crescita continua. Dovranno essere questi cinque anni ulteriori cinque di ulteriore crescita, vorrei dire, perché la crescita c'è stata, una crescita che passa, e l'ho già detto, dal potenziamento dei servizi, da un miglioramento sempre costante dei servizi. Credo che abbiamo fatto bene, ma dobbiamo fare meglio, soprattutto in certi servizi, mi riferisco ai servizi ambientali. Garantiremo, perché da lì partiamo, garantiremo ancora per cinque anni la puntuale realizzazione, servizi di qualità, miglioreremo quelli esistenti. E questo è il primo aspetto. Poi cercheremo di intercettare sempre più e di portare avanti un programma che veda un grande rilancio del nostro paese, un recupero, una riqualificazione del nostro centro storico, che ha dei beni architettorici assolutamente di pregio, di grande rilievo, e vanno promozionati. Un turismo enogastronomico, come dicevo, chiaramente dando risalto e cercando di marcare la promozione di un prodotto straordinario IGP, quale il salame di Sant'Angelo, e poi un ambiente che deve essere mantenuto pulito, un ambiente che deve poter essere offerto, perché rappresenta anche questa un'offerta importante. Abbiamo, come dicevo prima, uno straordinario patrimonio naturalistico, faremo in modo da realizzare dei percorsi che potranno essere utilizzati dai visitatori per il trekking, il tempo libero, per chi vorrà davvero godere questo ambiente straordinario all'insegna dell'aria buona e quant'altro. Questo è il pacchetto, un pacchetto che va in tante direzioni per un rilancio del Paese e poi lo sviluppo socio-economico. Abbiamo già in itiner a Palermo la realizzazione di una grande area industriale a Piano Croce, parliamo di oltre 5 ettari, una programmazione sul nostro territorio di insediamenti produttivi ad ampio raggio, che porteranno alla realizzazione di questa grande area per la piccola, la media industria, ma anche per l'artigianato, per i servizi, che è facilmente accessibile perché parliamo di un'area che è a 5 minuti circa dal grande nodo autostradale di Brolo e quindi condizioni ideali. Abbiamo già delle richieste perché un passaggio è fondamentale. Il pubblico può fare, il pubblico può sostenere, le pubbliche amministrazioni possiamo supportare lo sviluppo, però lo sviluppo passa soprattutto dall'iniziativa privata, dal potere attrarre gli investimenti dei privati perché da lì partiamo. In questo senso credo che abbiamo proprio intorno a questa area industriale, io credo che ci sono delle ottime prospettive per intercettare l'interesse di tanti piccoli e medi imprenditori che vorranno investire sul nostro territorio e quindi poter garantire anche sbocchi occupazionali per i nostri giovani. Questo è in sintesi ovviamente tantissime cose. Ripeto, abbiamo un programma molto ambizioso, io ci ho lavorato tanto, ambizioso ma concreto. Io credo che se noi riusciremo, qualora come io mi auguro, otterremo la conferma della fiducia dei nostri concittadini, io credo che realizzare almeno il 50% di quello che è il programma che noi presentiamo agli elettori sarà un grandissimo ulteriore risultato rispetto anche a quello che noi portiamo oggi al vaglio degli elettori. Sindaco, ci abbiamo alla conclusione di questa nostra chiacchierata. Le volevo chiedere, infine si rinnova praticamente la sfida di cinque anni fa contro Tinder o Germani, io ricordo che cinque anni fa fu una campagna elettorale abbastanza calda, per usare un eufemismo a Sant'Angelo di Brolo. Che tipo di campagna elettorale sarà questa? Che cosa si aspetta da questa campagna elettorale? Che clima si può pensare? Ma io ovviamente voglio fare una puntualizzazione e ringrazio per questa domanda perché credo che sia non solo pertinente ma sia doverosa. La domanda è doverosa la risposta. Io vorrei dire a tutti che tutt'oggi fino all'11 ottobre io sono sindaco in carica, responsabile dell'ordine pubblico sono il massimo responsabile come autorità sanitaria sul territorio la mia amministrazione è un'amministrazione uscente pur essendo in carica. Cinque anni fa è tutta un'altra storia. Io mi auguro che il clima di cui tu parli sia un clima civile all'insegna della convivenza, della competizione democratica nel compronto delle idee noi per quanto ci riguarda credo che abbiamo avuto e avremo rispetto massimo e assoluto per i nostri avversari. Vogliamo fare, ho detto ai miei ma condivido con i miei questa impostazione noi faremo una campagna elettorale all'insegna del bello stile e della signorilità. A noi interessa parlare di ciò che abbiamo fatto ed è tanto quello che abbiamo da dire alla nostra gente in questi cinque anni e di quello che intendiamo fare. Non andremo dietro alle provocazioni, agli insulti, ai veleni che purtroppo in una campagna elettorale in qualunque campagna elettorale possono essere dietro l'angolo. Certamente noi non siamo interessati a questo io ritengo assolutamente che chi va fuori da quello che è l'alveo del dibattito democratico del confronto civile vuol dire che non ha le idee e vuol dire che non ha nulla da dire agli elettori. Siccome noi abbiamo tantissime cose da dire ripeto, la nostra campagna elettorale sarà una campagna che parlerà all'insegna del massimo rispetto per i nostri avversari questo è sicuro e sarà una campagna dove informeremo i cittadini che non sono sempre molto ben informati cercheremo di fare dei passaggi nei quali puntualizzeremo in maniera capillare e peculiare ciò che abbiamo fatto nei cinque anni e quello che è importantissimo quello che noi intendiamo realizzare nei prossimi al di là di questo non accetteremo nessun dibattito sul piano dello scontro o sul piano anche della dialettica esacerbata ci siamo detti che tutti quanti come coalizione e che dobbiamo restituire d'altronde Sant'Angelo a una grande civiltà politica a una grande civiltà di convivenza politica all'insegna questa campagna elettorale questa competizione del confronto civile e del rispetto per gli altri Sindaco, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato per la sua disponibilità è stato un piacere è stato un piacere e un dovere da parte mia nei confronti della vostra emittente televisiva che dà un servizio importante sul territorio e quindi voi siete storici quindi è la prima intervista che rilascio e credo che fosse anche doveroso rilasciarla poi perché ripeto siete stati i pionieri dell'informazione grazie Sindaco in bocca al lupo per questa buona giornata grazie 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 a tutti grazie a tutti